Per la diciannovesima giornata del campionato promozione Girone C 2018-2019 il Fratres Perignano ospita allo stadio Mauro Matteoli, l'Aurora Pitigliano. Padroni di casa che schierano dal primo minuto Rizzato, Genovali, Piletti, Lelli, Galluzzi, Agliotta, Ndiaie, Pitti, Papa Diop, Favilli e Coco. Ospiti che rispondono con Castra, Giorgi, Mei, Doganieri, Maresi, Bernardini, Bianchi, Silvestri, Radicetti, Medori e Abis. Dopo poco più di un minuto di gioco lancia in avanti dell'Aurora Pitigliano, Galluzzi non controlla il pallone e Abis ruba il tempo al difensore e entra in aree con il destro superarizzato per lo 0-1. Due minuti più tardi pallone in profondità di Silvestri, Abis brucia di nuovo la difesa rossolù in velocità ma stavolta la sua conclusione a tu per tu con Rizzato finisce a lato. Scampato il pericolo il Fratres si riorganizza e il rinvio corto di Castra viene intercettato, la palla arriva a Papa Diop che lascia il possesso a Coco, Coco si sistema la palla sul sinistra e fa partire un diagonale verso Castra e il portiere si butta ma non devia ed è 1-1. Al quindicesimo minuto Papa Diop serve Coco che di prima innesca Pitti, Pitti si propone in profondità, sterza all'arrivo di due avversari, cerca il rimorchio di Coco che viene contrastato da Silvestri per l'arbitro e calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso numero 11 rosso-blu, palla da una parte e portiere dall'altra e il Fratres Spirignano sale sul 2-1. Al ventiseiesimo minuto Favilli scambia nello stretto con Papa Diop, una volta completato il triangolo con l'esterno sinistro Favilli serve sulla corsa Coco che controlla e di Mancino batte Castra per la tripletta personale e la 3-1 del Fratres. I padroni di casa beneficiano anche di una punizione da posizione invitante ma la battuta di Favilli termina poco alta sopra la traversa. Al quarantaseiesimo del primo tempo, dagli sviluppi della rimessa laterale, Favilli mette in mezzo per Coco che con un gioco di presidio mette fuori causa due difensori, Castra respinge da Zotera, sua ribattuta se venda a Diai e che a botta sicura realizza il 4-1. Nella ripresa, Cap Tarazze libera sulla sinistra Piletti che scende fin sul fondo, mette in mezzo per Papa Diop che da pochi passi spara alto mancando il tapin. Poco più tardi ancora Piletti a spingere bene sulla fascia di competenza, scaricare in mezzo per Favilli che di prima intenzione mette Papa Diop a tu per tu con il portiere, il suo diagonale fa la barba al palo ed è rimessa dal fondo. All'ottantesimo minuto Favilli con il fisico guadagna il possesso della sfera, entra in area, fa partire un diagonale che si stampa sul pallo interno, la palla torna in gioco, viene equipata a Cap Tarazze che decide di far ripartire l'azione con calma. Dopo aver puntato il diretto avversario, il Giorgiano mette in area per Favilli che si coordina, fa partire un gran sinistro, arriva la parata di Giorgi, cartellino rosso e secondo calcio di rigore per i padroni di casa. Stavolta alla battuta va a Cap Tarazze e così come Coco anche lui inganna Castra e realizza il definitivo 5-1. Dopo 5 turni senza successi torna la vittoria in casa Fratres Perignano che interrompe il momento negativo con una prestazione da punto esclamativo infliggendo un passivo di 5-1 a un Aurora Petigliano che proveniva invece da 4 affermazioni in fila prima di questo incontro. Il matatore della gara è sicuramente Gian Coco contro i reti ma le applausi vanno estesi a tutti i rosso-blu capaci di reagire alla rete subita a freddo e a macinare il gioco nei restanti 90 minuti. Con la partita rinviata tra Albini e San Donato adesso il Fratres ha due punti di vantaggio sul Cascina Campo dove gli uomini ticciati sono attesi settimana prossima per un gran scontro diretto.